In questo video imparerai in tre minuti oltre 3.000 vocaboli inglesi. Sì, lo so, ti hanno sempre detto che è quasi impossibile da imparare l'inglese. Così come ti hanno detto che devi studiare la grammatica, devi sapere ogni regoletta, ogni dettaglio, e solo quando avrai memorizzato tutte queste cose, anche se non hai mai parlato un secondo in inglese, così per magia potrai parlare l'inglese senza problemi. Questi ovviamente sono tutti falsi miti e cose sbagliate. Io sono Fabio e sono passato da essere negato totale per l'inglese a parlare 6 lingue. Questo perché ho usato un metodo che funziona davvero. E perché ho scoperto che ci sono molte scorciatoie e molti trucchi che possono accelerare il tuo processo di imparare una lingua. E ormai sono migliaia le persone che sono riuscite a imparare una o più lingue seguendo i miei consigli. Vediamo oggi uno di questi trucchi, uno di queste scorciatoie, che ci può far velocizzare moltissimo il nostro percorso con l'inglese. Devi sapere che ci sono molti gruppi di parole in inglese che sono di origine latina. E se sappiamo quali sono, possiamo facilmente convertirli dall'italiano. Ovviamente dobbiamo cambiare il finale e cambiare un po' l'accento. Ma ad esempio, se prendiamo le parole che terminano con zione o zione, che sono oltre 3.000, ad esempio, prendiamo frustrazione. In inglese diventa frustration. Prendiamo amministrazione e diventa administration. Raccomandazione diventa recommendation. Adesso voglio farti vedere dei madrelingua, usare parole di questo gruppo, e devo dirti che queste parole sono così tante e così comuni che solo nei primi minuti del primo video che ho aperto ho trovato molti esempi. Ad esempio, guarda questa intervista di Donald Trump dove dice prima Se hai problemi a capire un madrelingua, non ti preoccupare perché poi vedremo trucchi per fare anche questo. Ma comunque hai visto che posizione è un'altra parola che entra in questo gruppo e che dunque è uguale in inglese. Ma continuiamo con questa intervista. Dopo dice Ho eliminato o mi sono liberato di una regolazione. Ovviamente get rid o got rid al passato è una forma per dire eliminare o liberarsi. Senti come lo dice un madrelingua. E sempre nei primi minuti di quella stessa intervista ha detto anche condizioni preesistenti. Quindi preesisting conditions. Ascolta come lo dice. Poi ho fermato l'intervista dopo pochi minuti per non metterti solo esempi di Trump. Quindi ho aperto dopo un'intervista di Obama e giusto all'inizio guarda cosa dice. Anche lui usa una parola di questo gruppo infatti ha detto come conseguenza di questa elezione. As consequence of this election. Ascolta come lo dice lui. Quindi vedi che sono davvero tantissime le parole di questo gruppo come detto sono oltre 3.000 che hai appena imparato in inglese. E nota che Obama ci fa capire anche che le parole terminanti in sione e sione sono solo la punta dell'iceberg. perché usa la parola conseguenza che ci fa capire che anche tutte le parole che finiscono in enza creano un altro gruppo e sono altre 717 parole che puoi facilmente trasformare in inglese. Quindi vedi, sì ovviamente ci possono essere qualche piccola differenza in quella ma in sostanza sono uguali all'italiano adattandogli la pronuncia. E come vedi hai appena imparato oltre 3.000 vocaboli in inglese in pochi secondi. E io ho mantenuto la promessa che ti avevo fatto all'inizio del video. In realtà contando anche il gruppo che finisce in enza ne hai imparate quasi 4.000 quindi ho superato le aspettative che ti avevo creato. Ma aspetta, perché non è finita qua? Perché infatti questi erano solo due gruppi di parole ma ne esistono molti molti altri e non ho tempo ovviamente di spiegarteli qua. Ma la buona notizia è che se davvero vuoi imparare l'inglese non importa che tu abbia già provato per molti anni senza vedere nessun risultato concreto è che ho messo assieme una presentazione davvero straordinaria in cui vediamo assieme i 4 principi fondamentali che la scienza dice sono necessari per poter imparare una nuova lingua velocemente e facilmente. La presentazione è gratuita e l'unica cosa che devi fare per vederla oggi stesso è andare sul link qua sotto e inizierà subito.